ciao a tutti oggi nuova video recensione di un film questo film è il bluetooth shoot o vabbè come si pronuncia e il protagonista è vin diesel io trovo che questo film sia molto simile ad assassin creed e se non che ma non vi sto a fare spoiler il protagonista di assassin creed non muore invece vin diesel all'inizio muore e poi dopo viene fatto diventare un robot diciamo che viene rianimato e solo che invece che essere umano è un robot però comunque ha sempre i pensieri di un essere umano e lui ha come costante come costante ricerca diciamo di cercare l'assassino di sua moglie e comunque io non vi sto a spoilerare troppo vi consiglio di vederlo per me voto da 1 a 10 8 e mezzo è un film del 2020 quindi recente se non mi sbaglio è uscito a luglio 2020 e niente io vi consiglio di vederlo vabbè detto questo ci vediamo al prossimo video ciao